Come è noto dal 31 marzo tutti i fornitori delle pubbliche amministrazioni dovranno inviare la propria fattura a mezzo informatico. Sarà l'unico modo affinché il fornitore possa farsi riconoscere il proprio credito della pubblica amministrazione. Non ci saranno altri metodi e noi della Business Service offriamo ai clienti un'interfaccia web dove sarà possibile emettere la fattura elettronica e monitorarla passo passo. Non ci sarà bisogno di avere una post elettronica certificata né tantomeno una firma digitale in quanto questa interfaccia provvederà automaticamente a fare tutti questi passaggi. L'unico compito del fornitore dovrà essere quello di emettere la fattura in modo manuale o attraverso un upload del file XML e una volta inviata sarà processata la fattura in modo automatico fino ad arrivare alla famosa conservazione a norma che è un punto saliente della fatturazione elettronica in quanto è un obbligo di legge archiviare in modo legale la fattura. Come Business Service offriamo anche un servizio aggiuntivo opzionale che sarà quello di emettere per conto del fornitore la fattura e monitorarla passo passo.